Il canto diciassettesimo dell'Odissea riguarda il rientro di Telemaco, del figlio eroico di Odisseo, in città. Si apre il canto con lo spuntare dell'aurora dita rosate e con Telemaco che calza i suoi sandali belli e impugna l'asta robusta che gli riempie la mano pronto a recarsi in città. Subito si rivolge al porcaio Umeo annunciandogli appunto che andrà in città. Vecchio io andrò in città per farmi vedere da mia madre Penelope perché finché non mi avrà visto ella non desisterà dal piangere e dal soffrire. Ti do dunque quest'ordine mentre io mi reco in città da mia madre. Guida a tua volta l'ospite in città che si ottenga laggiù il suo cibo, gliene darà chi vorrà un tozzo e una coppa. Io non posso sostenere tutti gli uomini soprattutto ora che ho questa pena immensa nel cuore. Se l'ospite nostro si adirerà per questo trattamento poco mi importa, sarà peggio per lui. Io voglio essere franco nel parlare. A questo punto risponde Odisseo che lo ricordiamo è stato già riconosciuto da Telemaco, c'è stato il momento del riconoscimento e dice facendo il gioco di Telemaco Sì, anche a me non piace restare qui. Per un mendico è meglio recarsi nei luoghi abitati anziché rimanere in campagna. In città è più facile avere donazioni e cibo offerto. Non ho più l'età adatta per rimanere in una stalla per obbedire ai comandi di un capo. Vai dunque e mi sarà guida quest'uomo a cui tu stai impartendo gli ordini. Subito mi preparerò. Non dovesse ammazzarmi il gelo dell'alba e la città, quanto dite, è lontana. Ecco, dice di volersi scaldare prima di partire per poi intraprendere il viaggio verso la città. Intanto Telemaco attraversa la corte con passi rapidi e semina rovina i pretendenti. Appena rientrò nella sua comoda casa, appoggiò l'asta a un'alta colonna e si avviò nell'interno. Per prima a vedere Telemaco è la nutrice Euriclea, la quale anche, come si ricorderà, era stata l'unica a sapere in origine della partenza da Itaca di Telemaco alla volta di Pilo. Intanto la nutrice Euriclea sta stendendo velli sopra i troni storiati e si mette subito a piangere nel corrergli incontro. Tutte le ancelle del costante Odissio si raccolgono intorno a Telemaco facendogli le feste per il ritorno, baciandogli il capo e le spalle. Subito giunge anche dal talamo la savia Penelope che è, dice lo disse, a pari ad Artemide o all'Aurea Afrodite. Subito getta le braccia al collo al figlio Telemaco, piangendo, lo bacia sulla testa e gli bacia inoltre i due begli occhi. E così gli si rivolge. Sei qui Telemaco, non credevo mai più di rivederti da quando partisti per Pilo Arenose in segreto, senza avere il mio consenso, per cercare le notizie del padre. Ma raccontami bene che cosa hai visto. La madre chiede a Telemaco una precisa narrazione circa la sua spedizione a Pilo. E Telemaco subito risponde con prudenza alla madre, senza svelare i piani che egli e il padre Odisseo hanno architettato. Madre mia, non farmi piangere, non scolvolgere il mio cuore nel petto, perché ho appena evitato la morte. Ma adesso lavati, mettiti una veste pulita e vai su al piano superiore con le tue ancelle e prometti che farai a tutti i numi delle perfette ecatombi, cioè dei sacrifici di buoi, se Zeus compirà la vendetta. Io andrò sulla piazza per cercare un ospite che mi seguì nel mio ritorno. L'avevo mandato avanti con i miei compagni divini e avevo pregato Pireo di condurselo a casa e di ospitarlo fin tanto che non fossi ritornato in città. Così parla alla madre Penelope e lei la parola resta nel petto, non riesce più a parlare. Sicché si lava, si veste Penelope e promette di fare le ecatombi, come è stato richiesto da Telemaco. Intanto Telemaco esce di casa con l'asta in pugno, lo accompagnano due rapidi cani e Atena versa su di lui prodigiosa bellezza. Tutto il popolo guarda passare Telemaco, grande e bello, perché reso ancora più grande e più bello da Atena, che ancora una volta interviene vicino a Odissio e alla sua famiglia, in questo caso vicino a Telemaco. E intanto Telemaco scansa la folla di quelli che in realtà gli erano stati sempre amici del padre. Mentore stava seduto e Antifo e Aliterse, che sempre gli erano stati amici del padre. Quelli gli domandavano ogni cosa e lui però ha fretta e non vuole perdere ulteriore tempo. Ecco che arriva finalmente Pireo, che era famoso con l'asta, e che guida in piazza per la città l'ospite. Non resta per molto tempo Telemaco lontano dall'ospite, ma subito gli si approssima. E per primo parla Pireo, Telemaco subito manda al mio palazzo le donne, che ti consegni i doni che ti ha dato Menelao. Ma il Savio Telemaco risponde, Pireo, noi non sappiamo come andrà la cosa, se i pretendenti superbi si spartiranno tutti i miei beni dopo avermi magari ucciso a tradimento. Voglio che tenga tu, Pireo, quei doni, che li trattenga tu di modo che non se li prendano i pretendenti. Detto così, guida l'infelice straniero nel palazzo e non appena entrano nella comoda sala, posano i mantelli sui troni e sui seggi e si fanno il bagno nelle vasche lucide. Poi vengono lavati e unti dalle ancelle, indossano le tuniche e si siedono sui seggi. Un'ancella giunge per versare il lavacro da brocca bella d'oro e li lava ulteriormente. Poi la dispensiera viene a servire pane e pietanze e la madre sedeva di fronte, appoggiandosi con la poltrona a una colonna della sala e intanto girava il fuso sottile. Intanto mangiavano con gusto e tra loro prende a parlare Penelope. Telemaco ormai mi stenderò sul letto che per me è sempre causa di gemiti perché è sempre bagnato dal mio pianto da quando Odisseo è partito con gli atridi alla volta della rocca di Ilio e tu non hai cuore prima che i pretendenti alteri rientrino qui nella sala di dirmi chiaro il ritorno del padre se tu l'hai saputo. Penelope insiste in altri termini per sapere se durante il suo viaggio Telemaco ha avuto notizia del padre del suo ritorno. Certo madre, dice Telemaco, io ti dirò il vero, siamo stati a Pilo da Nestore e il quale ci ha accolti caramente come fa un padre con il figliuolo. Così caramente ha avuto cura di me. Ma Diodissio diceva di non aver avuto più alcuna notizia, né se fosse morto né se ancora vivesse. Poi, dice Telemaco, il glorioso Nestore ci inviò da Pilo a Sparta, dal glorioso con l'asta Menelao perché andammo là da Pilo con i cavalli e lì vidi anche l'argiva Elena per cui tanto argivi e teucri soffrirono per volontà dei nomi. Subito Menelao mi chiese che cosa fossi venuto a fare alla cedebone bella e io gli narrai tutta la verità. A quel punto Menelao glorioso mi disse veramente queste parole. Sono davvero dei vigliacchi questi pretendenti che vogliono giacere nel letto di un uomo gagliardo. Ma come nella macchia di Forte Leone una cerva, anni dati i cerbiatti neonati, lattanti, cerca le balzi, le valle erbose, pascendo e quello appena giunge al suo covo ai due cerbiatti morte e misera infligge, così morte e misera infliggerà loro Odissio. Questa era stata la profezia di Menelao, dice Telemaco. Ossia il fatto che Odissio sarebbe rientrato a Itaca e come un leone che si lancia sui piccoli cerbiatti avrebbe fatto strage dei proci. O se Zeus Padre, Atene, Apollo volessero davvero accontentare questa profezia. Le cose che chiedi e mi supplichi, certo non le dirò diverse madre, non ti ingannerò facendo delle variazioni nel racconto. Ma quanto mi disse il vecchio verace del mare, niente di questo ti nasconderò, non coprirò le parole. Diceva dunque di averlo visto in un'isola, patir dure pene nella dimora della ninfa Calipso che lo trattiene a forza e non può ritornare con i suoi compagni e con le navi semplicemente perché non ha più navi armate di remi, non ha compagni, è ormai solo. Questo mi ha detto il glorioso Menelao. E dopo aver appreso queste notizie prima da Nestore e poi da Menelao me ne tornai indietro e mi riportarono in patria, eis patrida in patria. Mentre dice queste parole, ancora una volta Penelope piange e ha il cuore sconvolto. Ma lei rivolge parole pari a un dio Teoclimeno. Odissio è già nella terra dei padri, dice Teoclimeno. Odissio è già nella terra dei padri. Odisseus è già nella terra dei padri. Sieda e cammini e queste male azioni conosce, ai pretendenti tutti sta seminando rovina. Ti dico questo Penelope, quello che non ha saputo dire Menelao a Telemaco, te lo dico io, che è già Odissio nella terra dei padri e si accinge a produrre la vendetta contro i pretendenti sfrontati. E a questo punto risponde la saggia Penelope. Oh, se davvero si compisse questa parola, ospite mio, allora sapresti davvero cosa vuol dire una buona amicizia, avere moltissimi doni da parte mia e chiunque ti incontrasse ti direbbe poi felice. Scambiavano queste parole intanto e i pretendenti davanti alla casa di Odisseo continuavano a giocare, a godere e a dilettarsi. Come sempre superbi, dice testualmente l'Odissea, come sempre superbi. Ubrin econtes, letteralmente, avendo tracotanza, avendo ubris, avendo sfrontatezza. Poi quando arriva l'ora del pranzo e arrivano le bestie da tutti i campi, allora parlò ad essi Medonte. Medonte era quello che più piaceva tra tutti gli araldi e sedeva con loro al banchetto. Giovani, poiché tutti godeste in cuore dei giochi, entrate in casa che prepariamo il banchetto. Non è meno piacevole prendere il cibo al suo tempo. Dette queste parole si alzano i pretendenti e obbediscono, entrano nella comoda sala, lasciano i mantelli sui seggi e sui troni e approntano questo pasto, l'auto e sfrontato anch'esso. Intanto il glorioso porcaio Eumeo e Odissio sono intenti a scendere dalla campagna verso la città, quindi la scena si sposta ora dalla sala dove i proci con l'araldo Medonte si sono radunati per pranzare, si sposta nelle campagne dove Odissio e il porcaio Eumeo stanno discendendo verso la città. Il porcaio parla Odissio. Ospite, dato che tu vuoi scendere in città, come anche ha ordinato il mio rete Lemaco, così avverrà. Ma sappi che io per parte mia avrei preferito che tu rimanessi qui come garzone di stalla, ma io rispetto il mio padrone e anzi lo temo, perché forse in futuro potrebbe addirittura adirarsi con me se non esaudissi le sue richieste. Sono molto pesanti i rimproveri dei padroni. Dunque andiamo, andiamo verso la città. Odissio gli risponde, lo so e ci penso, tu parli a chi ha seno. Andiamo dunque e tu fino in fondo fammi da guida, dammi un bastone se ce l'hai, di modo che io possa appoggiarmi camminando. Intanto si getta una sporca bisaccia sulle spalle e procedono. E intanto Eumeo gli dona il bastone, un bel bastone, dice l'Odissea, un bel bastone. Allora si muovono, scendono e procedono verso la città. Simile a un mendicante vecchio e infelice appoggiato al bastone e sul corpo l'uride vesti vestiva. Così procede Odisseo, irriconoscibile e reso tale anche, come sappiamo, da Atena. Ma quando poi erano già ormai vicini al centro abitato e già erano al fonte murato, a Quebelle, dove i cittadini attingevano, intorno vi era un boschetto di pioppi che si nutrono d'acqua, tutto rotondo in giro, e vi era una zona sacra alle ninfe. Qui vennero raggiunti da Dolio, il figlio di Dolio, Melanzio, che spingeva le capre, con lui altri due pastori. Melanzio, quindi il figlio di Dolio, con due pastori, si avvicinano dinanzi a Odisseo e a Eumeo e li ingiuriano, li insolentiscono in maniera villana. Il cuore di Odisseo resta sconvolto. Adesso davvero un gaglioffo guida un altro gaglioffo, dice Melanzio, perché sempre il simile appaia il Dio con il simile. Dove porti questo pezzente o disgraziato porcaio, uno straccione schifoso, trangugiatore di avanzi? Costui è un essere squallido, non merita che di spazzare le tame e di stare nello sporco. Però questo ti dico e avrà compimento. Se entra in casa del divino Odisseo, molti sgabelli che gli saranno lanciati in testa spezzeranno la sua schiena. Dice queste parole insolenti Melanzio e nel passare accanto a Odisseo gli dà un calcio sull'anca. Non riesce a buttarlo fuori dal sentiero perché Odisseo si riesce a sostenere. E per un attimo Odisseo vuole colpirlo e strappargli la vita, ma tiene a freno il suo cuore. Dice l'Odissea, così diceva e passandogli diede un calcio lo stolto sull'anca. Però dal sentiero non lo potei gettar fuori, ma si sostenne senza cadere Odisseo. E fu un attimo in forze se balzando con il bastone dovesse strappargli la vita o lo alzasse di peso in terra, gli fracassasse la testa, ma sopportò, si frenò in cuore. Ancora una volta Odisseo rivela una delle sue doti principali, oltre alla metis, la sapienza pratica, anche la sopportazione, la sopportazione, il coraggio come sopportazione, la capacità di sopportare e di frenare il proprio cuore. Dice testualmente Epetolmese, sopportò letteralmente, ecco, sopportò. A questo punto, mentre Odisseo sopporta e non reagisce, il porcaio Eumeo sgrida Melanzio. Ninfe della sorgente, figlie di Zeus, se Odisseo a voi bruciò coscia, a volte di florido grasso, di capretti o d'Agnelli, compitemi questo voto, che quell'eroe torni, che possa tornare Odisseo in patria e che faccia vendetta anche di questa hubris, di questa tracotanza. E subito Melanzio, il capraio, risponde ancora più irato e più sfrontato. Senti che cosa ha detto il cane maligno, ma presto su una venera bei banchi lo voglio portare lontano d'Itaca, che mi dia buon guadagno. Così colpisca Telemaco a pollo arco d'argento, oggi stesso in palazzo, o i pretendenti l'uccidano come per Odisseo, se perduto lontano il ritorno. Dette queste parole sfrontate, dove addirittura augura la morte a Telemaco, che possa morire quindi come già è morto il padre Odisseo, li oltrepassa, perché loro procedevano piano, e va oltre. Andò avanti e molto in fretta giunse al palazzo del re. Subito entra fra i pretendenti e si avvicina a Eurimaco, che infatti amava moltissimo Melanzio, che è un traditore della famiglia di Odisseo. Gli hanno subito la porzione abbondante di carne e lo trattano appunto come uno di loro, quale in effetti è, avendo Melanzio tradito la famiglia di Odisseo. Intanto fermano i loro passi il Porcaio e Odisseo e si avvicinano sempre di più. E venne intorno a loro il tintinio della concava cetra, perché aveva preso a cantare per quelli femio. Dunque, prendendogli la mano, disse al Porcaio Odisseo. E Eumeo, questo è certamente il palazzo bello di Odisseo. Facile riconoscerlo, anche a vederlo tra molti. Sono infatti dinanzi al palazzo e prima di entrare Odisseo finge di non sapere quale sia il suo palazzo, perché ancora una volta Eumeo non capisca che è realmente Odisseo. E la prerogativa del palazzo di Odisseo è l'ordine. Tutto vi è in ordine, dice. Il cortile è ben chiuso, con mura e rinforzo. La porta è sicura, ha due battenti. Nessuno potrebbe forzarla. Molti vi banchettano dentro, sicuramente. E questo è il palazzo di Odisseo. E Eumeo subito gli risponde, subito l'hai riconosciuto, infatti non sei affatto stolto o mendico. Questo è effettivamente il palazzo di Odisseo. Ma su, pensiamo come sarà questa cosa che dobbiamo fare. O entri subito nella comoda casa, io resto qua, oppure se preferisci aspetta tu qua e dentro io per primo. Però non stare troppo, che non ti vedano qua fuori e ti picchino ulteriormente. E subito Odisseo risponde, lo so, ci penso, parli a qualcuno che ha senno. Vai tu per primo, io intanto starò qui. Non sono nuovo ai colpi e alle frustate. Costante il mio cuore perché molto sofferto tra l'onde e in guerra. Qui Odisseo parla fingendosi il vecchio mendico, ma in realtà sono parole che si riferiscono pienamente a Odisseo stesso, che in effetti ha un cuore costante e molto ha sofferto tra l'onde e in guerra. Il mio cuore ha molto sopportato, è costante quindi. Epei cacapolla peponsa perché ha sopportato molti mali. Kyumasi cai polemo, in mare, tra le onde e nella guerra. Dopo quei mali venga anche questo quindi. Non posso nascondere il ventre affamato e rischierò di buscarmi altre botte. Dicono queste parole, intanto un cane sdraiato là li vede, un cane sdraiato rizza il muso e le orecchie. Ed è Argo il cane del costante Odisseo, che un giorno era stato nutrito direttamente dalla mano di Odisseo, prima che partisse per Ilio Sacra. In passato lo conducevano a caccia di capre selvatiche, di cervi, di lepri, ma adesso il cane Argo giaceva là, trascurato. Era partito il padrone, lui era trascurato e abbandonato. Giaceva sulle tame di muli e buoi che ammucchiavano davanti alle porte, che appunto veniva messo là. Lì giaceva il cane Argo, pieno di zecche, e allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda, abbassò le due orecchie, ma non poté correre incontro al padrone. Argo di fatto è l'unico in tutta l'Odissea che riconosca al primo sguardo il padrone Odisseo. Il cane Argo è l'unico che immediatamente riconosce senza esitazioni Odisseo, nonostante il tanto tempo trascorso. E subito gli fa le feste come può, ormai è debole, è malandato, trascurato, sofferente, non è in grado di correre incontro al padrone, solo muove la coda e abbassa le due orecchie in senso di devozione fedele al suo padrone. E Odisseo si accorge naturalmente che il cane Argo lo ha riconosciuto e voltandosi per non farsi vedere da Eumeo, versa delle lacrime e se le pulisce, si pulisce le lacrime per non farsi vedere. E subito chiede Eumeo che meraviglia quel cane l'ha sull'etame, è bello di corpo ma non posso capire se fu anche rapido a correre con questa bellezza oppure se fu solo come i cani da mensa dei principi che vengono allevati solo come ornamento. Subito Eumeo gli risponde, purtroppo è il cane di un uomo che è morto lontano, se per bellezza e vigore fosse rimasto come partendo per Troia lo lasciava Odisseo, cioè se fosse rimasto come era quando partì Odisseo e non fosse invece invecchiato e sofferente, Ora quel cane ti incanterebbe, ti incanteresti a vederne la snellezza e la forza, non gli sfuggiva nessun animale quando dava la caccia, nessun animale riusciva a sfuggirli, era letteralmente capace di prendere ogni tipo di animale, non riusciva a sfuggirgli nessun animale. Ora è malconcio, è sfinito, il suo padrone è morto lontano dalla patria e le ancelle in fingarde lo trascurano, non si prendono cura di lui, perché si sa quando i padroni non li governano i servi non hanno voglia di fare nulla. Così detto Eumeo entra nella comoda casa, diritto si procede, si avvicina ai pretendenti e intanto a questo punto la Moira richiama a sé Argo. Argo muore dopo vent'anni, non appena rivede Odisseo, muore dopo vent'anni rivedendo Odisseo, sospira e dice ed emette il suo ultimo suono, morendo dopo aver rivisto il padrone. Intanto per primo Telemaco, simile a un nome, vede entrare in sala il porcaio, Telemaco è già dentro la sala, come sappiamo, e subito gli fa un breve cenno richiamandolo. Lo porta presso la tavola e subito dopo, mentre Eumeo è già alla tavola e mangia accanto a Telemaco, entra in sala Odisseo, simile a un mendicante vecchio infelice con il corpo coperto dall'uride vesti. Subito Telemaco chiama il porcaio e gli disse di dare un pezzo di pane anche all'ospite appena entrato. Dice questo e subito il porcaio esegue, Telemaco ospite ti dona questo e intanto dà a Odisseo sotto mentite spoglie il pezzo di pane e ti invita a chiedere a tutti i pretendenti, accostandoti a loro, chiedi anche ai pretendenti del cibo. Sire Zeus possa Telemaco essermi beato fra gli uomini, dice Odisseo e intanto riceve il dono e mangia mentre il cantore inizia a cantare. Insieme si avvicina ora Atena che si fa prossima all'arziade Odisseo e lo spinge a raccogliere tra i pretendenti gli avanzi perché vedesse chi tra loro era giusto e chi ingiusto. Ma nemmeno così qualcuno avrebbe evitato il malanno. Si muove tra i pretendenti per chiedere doni porgendo la mano e quelli per compassione davano e di lui si stupivano, si chiedevano l'un l'altro chi fosse e da dove venisse. Ma tra loro parlò Melanzio, il capraio, quello che già aveva colpito sul sentiero Odisseo. Sentite me pretendenti, io già prima l'ho visto, fin qui gli ha fatto da guida il porcaio, non so però bene di che stirpe si vanta. Così diceva Antino, rimprovera con parole il porcaio Umeo. O tu famoso porcaio, perché hai portato in città questo accattone? Già non ce ne sono abbastanza, vuoi che anche lui divori gli averi? E subito Umeo risponde Antino non parli bene benché tu sia nobile, occorre invitare sempre lo straniero e l'ospite, bisogna trattarli a dovere. Sempre maligno tu sei fra i pretendenti tutti, coi servi Dodisseo e con me specialmente, ma io non me ne curo finché la fedele Penelope vive in palazzo e vive Telemaco simile a un Dio. Quindi Umeo colpisce a parole il pretendente sfrontato Antino e dice che lui in fondo si sente servo di Telemaco e di Penelope e a loro fa riferimento. A questo punto Telemaco dice taci non replicare parole a costui, Antino è sempre solito essere un provocatore e aizzare gli altri con le parole. E dice anche ad Antino parole fugace, Antino tu hai buona cura di me come padre di un figlio, tu che l'ospite vuoi far cacciare di casa con perentorio comando, ma che un Dio non voglia questo, l'ospite va trattato da ospite. Vuoi mangiare molto tu e non dare ad altri, dice testualmente Telemaco ad Antino. E Antino dice Telemaco arringatore sfrenato nell'ira, che cosa diavolo hai detto? Se tutti gli donassero quanto me i pretendenti lo vedrebbe lontano per ben tre mesi la sala. E a questo punto tira da sotto la mensa lo sgabello su cui teneva i piedi robusti. Tutti donavano e riempivano la bisaccia del mendico, intanto Odisseo stava per tornare alla soglia a gustarsi il dono degli Achei, ma si fermò presso Antino e così gli disse Dammi caro, non mi sembri l'ultimo fra gli Achei, anzi il migliore, perciò devi darmi un boccone anche tu e sia anzi migliore degli altri. Io un tempo abitavo un palazzo ricco tra gli uomini, beato, e molto spesso davo ai poveri quando mi chiedevano qualcosa. Ma Zeus mi atterrò il cronide, questo gli piacque, mi spinse ad andare coi pirati e rabondi in Egitto lunga via e li trovai rovina. Nel fiume Egitto ancorai le navi e là comandavo i miei fedeli compagni di restare presso le navi, ma essi cedettero alla violenza e seguendo il loro furore saccheggiarono i campi bellissimi degli egiziani, le loro donne, i bambini, rapivano, uccidevano gli uomini e da lì subito si sparse la voce e arrivarono gli egiziani a colpirci. E Zeus gettò malafuga tra i miei, nessuno combatté, tutti scapparono e molti addirittura morirono. Io invece fui catturato e venduto come uno schiavo a Cipro e alla fine sono arrivato qui soffrendo molti dolori. Antino a questo punto ricambia e grida, ma quale Dio ci mandò questo strazio del pranzo, fermo costa nel mezzo, lontano dalla mia mensa, ho presto un Egitto, una Cipra ben amara raggiungi, razza di audace sfrontato a cattone che sei, ti avvicini a tutti in fila e ti danno senza sforzo, perché non c'è risparmio a donare dell'altrui. Io invece non ti voglio dare nulla in sostanza perché è mia la roba donata. A questo punto Odisse gli dice, povero me, dunque non era pari all'aspetto il tuo cuore, certo di casa tua nemmeno il sale daresti al mendico, tu che ora sedendo alla tavola altrui non hai cuore di prendere un pezzo di pane e darmelo. Eppure hai molto davanti. A questo punto Antino non capisce più nulla, si infuria e urla contro di lui. Tu gracchi e insulti in questa sala, non credo che tu potrai andartene impunemente da qui. Dice queste parole e con lo sgabello lo colpisce sulla spalla, sulla schiena, ma Odisseo non cede, sta dritto come una roccia e non riesce ad abbatterlo il colpo di Antino. Solo scosse la testa, muto, meditando mali nel cuore. Meditando mali nel cuore. Poi ritorna alla soglia e parla ai pretendenti. Sentitemi, pretendenti della gloriosa regina, che dica quanto mi comanda il cuore nel petto. Non c'è strazio dentro il cuore né pena quando un uomo lottando per i suoi beni è colpito. Ma Antino ha colpito me per il ventre maligno, odioso, che molti mali dà agli uomini. Oh, se esistono numi e derini dei poveri, Fatto di morte, avanti le nozze Antino raggiunga. Addirittura Odisseo augura la morte ad Antino. E subito Antino rispose, mangialà zitto straniero, vai via, che non ti tirino i giovani per quello che dici, attraverso la sala e non ti massacrino di botte. Così detto, così disse Antino, ma tutti ne ebbero sdegno. E qualcuno dei giovani alteri gli diceva, Antino hai fatto male a colpire un ramingo infelice. E se fosse per caso un nume del cielo? Spesso, si sa, gli dei si muovono simili a ospiti da altre contrade. Girano sotto falsi sembianti per vedere come si comportano gli uomini. Forse non hai agito bene, dicono gli altri pretendenti. E a questo punto la sapiente Penelope, quando sa che è stato colpito il mendico, dice, così ti colpisse Apollo, arco d'argento. E a questo punto Eurinome, la dispensiera, le risponde, oh se le nostre maledizioni potessero compiersi, di costoro nessuno arriverebbe all'aurora bel trono, cioè nessuno sopravviverebbe fino a domani. E ancora dice Penelope, vecchia, sono tutti odiosi perché tramano mali. Uno straniero misero va all'elemosina in sala chiedendo ai principi, lo costringe il bisogno e tutti si riempiono le mani e gli danno. Lui invece lo colpisce con lo sgabello senza pietà. Anche Penelope è sdegnata. E intanto Penelope dice al glorioso porcaio, vai glorioso Eumeo, vai dall'ospite, invitalo a venire qui, io voglio parlargli e interrogarlo, se magari sa qualcosa del costante Odiscio, se l'ha visto con gli occhi, pare che abbia molto girato. E a questo punto Eumeo dice, certo regina, se stessero zitti gli Achei, come ti incanterebbe il cuore con i suoi racconti? Io l'ho avuto per tre notti con me, è una persona squisita nel parlare, mi ha raccontato tutti i suoi mali, io lo guardavo come si guarda un cantore che canta cose splendide. Dice che è ospite antico per Odiscio, quando abitava a Creta, dove a dimora la stirpe di Minosse, ed è da là che è giunto qui tra noi, soffrendo molti dolori. Giura di avere notizie di Odiscio, dice che è vivo e che riporta a casa molti beni. A questo punto Penelope dice, vai, chiamalo Costoro, o nel cortile sedendo nella sala, si divertano pure, perché il loro cuore è giocondo, e io invece voglio parlare con Costui. Loro invece sempre gozzovigliano, bevono senza pensiero, sprecano, perché non c'è quell'uomo grande che era Odiscio che li possa cacciare. Ma se Odiscio tornasse e toccasse la terra dei padri, subito insieme al suo figlio Telemaco, punirebbe questi sfrontati. Intanto Telemaco starnutisce forte, tutta la casa echeggia e rise Penelope. E subito Eumeo le dice parole fugaci. Vai, invita l'ospite a venirmi qui, dice a Eumeo parole fugaci, su, invita l'ospite a venirmi qui avanti. Non vedi che il figlio starnutisce a tutte le mie parole? Così si avverasse la morte dei pretendenti, di tutti. Ti dico altre, tu servalo in cuore. Se vedrò che quest'ospite ha detto vero ogni cosa, gli darò delle belle vesti. Dice queste cose, il porcaio sta accanto a Odiscio e gli dice che la padrona di casa, la madre di Telemaco, vuole parlargli. È il suo cuore che la spinge a chiederle dello sposo. Se vedrà che hai detto cosa giusta e buona, vera, ti darà del cibo e ti vestirà a dovere. A questo punto Odiscio dice Eumeo, certo, tutte cose vere posso rispondere alla sapiente Penelope. So molto di lui, di Odiscio, perché soffrimmo gli stessi dolori. Soffrimmo gli stessi dolori. Perché in effetti siamo la stessa persona, pensa probabilmente il mendico, ovviamente senza dirlo. Odiscio e il mendico sono la stessa persona e quindi hanno sofferto per forza gli stessi dolori. A questo punto dice però che ha paura di questa violenza dei pretendenti e proprio ora quando colui mentre in sala giravo e non facevo niente di male mi colpì e mi gettò nello strazio non l'ha impedito Telemaco e nessun altro. Quindi ho paura ad avvicinarmi. Perciò adesso prega Penelope che mi aspetti nelle stanze fino al calare del sole e solo allora mi chieda del ritorno del suo sposo dandomi un posto vicino al fuoco o vesti grame, tu lo sai bene. Dice queste parole, il porcaio si muove e viene interrogato da Penelope. Non me lo porti, quindi Eumeo sta là? Che cosa ha in mente il mendico? Forse ha paura di qualche maligno? E Eumeo dice, parla con senno il nostro ospite, ha paura che i principi tracotanti lo colpiscano ancora. Ha paura testualmente, dice l'odissea, Ubrin Androna, paura della tracotanza degli uomini. Ti prega quindi di attenderlo al calare del sole e anche per te sarà meglio, regina, per poterlo ascoltare meglio. Così risponde la sapiente Penelope, non ha detto cose stolte il nostro ospite, non esistono altri fra gli uomini mortali che così prepotenti compiano eccessi e pazzie. Ubrizzontes, fare appunto Ubris, commettere Ubris, è la prerogativa dei procidi, appunto che sono Aneres Ubrizzontes, uomini che fanno tracotanza, che hanno tracotanza. Dice queste parole, intanto il porcaio torna tra la folla dei principi e subito dice parole fugaci a Telemaco. O caro, io me ne vado a badare alle scrofe e arresto lassù nella campagna. Qui provvedi tu a ogni cosa e anzitutto salva te stesso, ti vogliono male molti fra gli Achei, che Zeus li disperda prima che ti danneggino. E il Savio Telemaco dice sarà così vecchio mio, ma parti dopo aver cenato e domattina torna e porta delle belle vittime. Così diceva, e quello si rimise a sedere sul seggio e il porcaio e poi saziato il cuore di cibo e di vino tornò la sera tra le scrofe lasciando il cortile e la sala piena di banchettanti. Ormai si dilettavano con le danze e le canzoni perché era calata la sera e con queste parole si chiude il libro diciassettesimo dell'Odissea.